Sai qual è l'aiuto in più per la tua impresa? Il cassetto digitale dell'imprenditore. Hai più opportunità. Puoi consultare i documenti della tua attività quando ti servono, ovunque ti trovi, senza costi e condividerli al volo anche con un messaggio. Accedi con la tua identità digitale da cellulare, tablet e computer. Se non ce l'hai, richiedila online sul sito della tua camera di commercio. Hai più tempo per i tuoi progetti. Non devi richiedere visure, atti e bilanci, il fascicolo d'impresa o le pratiche presentate al SUAP, perché sono sempre a portata di mano. Hai più autonomia. I tuoi documenti sono subito a disposizione per accedere a bandi, voucher e finanziamenti. Così potrai cogliere l'occasione giusta. Con il cassetto digitale hai più energie da dedicare al tuo business e far crescere la tua attività. Accedi subito al cassetto digitale dell'imprenditore su impresa.italia.it e dai una marcia in più alla tua azienda.